Buonasera a tutti, grazie per essere presenti alla prima azione della Coppa Wild Studio Grosseto, 18 buche, Louisiana, 2 giocatori, 7 report e gara handicap, gara viscutata domenica 15 aprile 2018. I premi sono gentilmente offerti dalla Wild Studio SRL di Grosseto. Abbiamo qui Stefano Innocenti, ci presenta un po' la sua schiena. Un applauso allo sponsor. La nostra cantatrice è anche società informatica e quindi abbiamo unito, ovviamente l'informatica non era possibile dare niente, abbiamo unito dei libri di nostra produzione, quindi produzione locale, con dei vini che penso siano apprezzati. Molto, grazie. Bravo. Terzo letto assoluto, Maurizio Di Tomassi e Leonardo Larchie con 44 punti. Eh, li si dà a noi poi insieme. Secondo letto assoluto, per Gerardo Facenti, Claudio Vallucci. Bravo, molto bene, vai. Chi c'è? Sono uguale, sì sì, sono tutti uguali. Eccolo, guarda. Sono due guide turistiche di Castiglione della Pescaia e due libri fotografici di Contala. Come lui. E a chi la conosci poco, no? Pochissima. Sono due bocce di vino buone. Vai Stefano qui, guardami. Bene, la, perfetta. Vai. Primo letto assoluto, Arianna Lenzi e Dante Lucci. Bravi, 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 bravi. Siamo di nuovo stesse pubblicazioni, puntala e la guida, e poi due bottiglie di vino. Ok, certo, bravi. Grazie. Il primo luogo assoluto, Costantino Tofis e Valerio Pacini con 37 punti, quindi uno sotto, va che caso. Bravi, bravi, bravi. Qui abbiamo Brunello di Montarcino, ciascuno. E poi abbiamo i libri, e qui c'è un libro in più, ovviamente per cercare di dare un valore maggiore, che è un libro di Mantugano Vani Ranieri e Giovanni Rossetti, sempre fotografico su Castiglione della Pescaia. Molto bene. E puntala, c'è anche puntala. Valerio, un attimo, ecco, guardatemi. Ok, perfetto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.